0.09 in volo, a torraggio, a torraggio, a torraggio. E' un'istante. E' l'ambile. Vai, sali, 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 sali. Eh? Non vuole carabili o sono con me? a 14, 25 a 14 23 a 400 ma io sono un po' in un'onda dai 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 vato dola dopamai c'è gollo e si fa un po' di flora ti devi scafare questa montagna e sono la chiamata buona 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 ma ancora ce la fa rientrare se chi? eh no, lei che lei è una zombo non ti fai non è non la sta di là